Quello che innanzitutto vorrei precisare è che ci sono uscite delle notizie che rappresentavano l'invio dei campioni di pesci, di topi, circa dieci giorni dopo l'evento. In realtà questo lo smentisco categoricamente, essendoci noi interessati in prima persona insieme all'Asle di questo aspetto, i campioni sono stati consegnati il giorno stesso, intorno alle ore 14.30, all'Istituto Zooprofilattico. Nella giornata di ieri abbiamo avuto anche un incontro presso l'Istituto Zooprofilattico per fare il punto su quelli che sono i risultati delle analisi già effettuati. Per quanto riguarda i tempi, ovviamente noi come Corico Sierra non gestiamo direttamente le analisi, però interessando ovviamente gli organi competenti ci hanno confermato che sono tempi in linea. Quindi sono alcune analisi, analisi ad esempio gli esami che vengono fatti, gli esami autoptici che hanno un tempo di esecuzione molto più breve. Gli esami invece tossicologici richiedono dei tempi più lunghi, mediamente si tratta di 20-30 giorni, quindi dipende dal tipo di esami. Alcuni di questi esami sono stati fatti non nella sede di Portici ma nella sede di Padova e quindi perché erano esami più specifici, per cui vorrei innanzitutto sottolineare che l'attività sta andando avanti. Per quanto riguarda i risultati abbiamo dei primi segnali su quello che può essere escluso e quello che può essere ancora considerato una possibile causa, però ovviamente non possiamo ancora andare a fondo, dare comunque notizie certe per cui mi manterrei un pochino cauto su questo.